La gamba, la gamba è questa, questa è la gamba, questa è la mia Alberto tempo fa, mi ha da dire, cazzo che sfiga Russo e tedesco Porco cane, porco cane Ciao a tutti, sono qua in camera anche oggi e volevo fare un piccolo video adesso poiché il mio amico è in doccia, è in doccia vuol dire che si stava facendo il bagno lì, lì dentro e quindi non è qui in camera con me adesso, è nell'altra stanza e volevo fare appunto il video poiché quando è in camera qua mi fa sempre ridere Mi fa sempre ridere ed è difficile fare un piccolo video per salutarvi e quindi ecco anche oggi volevo farvi ascoltare un po' di italiano da una voce e comunque una persona che conoscete e avendo ovviamente i sottotitoli e volevo farvi vedere questo bellissimo panorama che è veramente Questo sole che è veramente 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 spettacolare e vedete l'isola il sole e ecco volevo volevo salutarvi ancora una volta e porco cane che sole Ecco volevo salutarvi e condividere un po' questa piccola vacanza o grandissima vacanza con voi no per aiutarvi anche ascoltare un po' di italiano Quindi ecco ci sentiamo nei prossimi video e ciao ciao